I cuccioli L'orsetto Ciao orsetto, posso accarezzarti il naso? Certo, mi piace, mi fa solletico. E alla tua mamma? Posso schiacciare il naso anche a lei? No, no, stai attento, altrimenti ti mangia. I lupetti Piccoli lupi, che pelo morbido avete! Serve per tenerci caldi tutto l'inverno. E se abbiamo ancora freddo, ci stringiamo alla nostra mamma. L'elefantino Che bel gioco, elefantino! Lo fai fare anche a me? No, la proboscite della mia mamma è tutta mia. È meglio di un'altalena. Stai attento a non cadere. Non ti preoccupare, questo gioco lo faccio da quando sono nato. Hai provato a schiacciarmi il pancino? Le foche Pluff! Chi si è tuffato? La nostra mamma è andata a pescare un pesciolino per colazione. Come siete grassottelle! Si vede che ne avete mangiati tanti di pesciolini. Il delfino Dove nuoti, piccolo delfino? Nuoto dietro alla mia mamma. Così non mi perdo. Il mare è grande. E cos'altro sei capace di fare oltre a nuotare? So saltare sopra le onde e fare un buffo verso. Toccami la groppa e lo sentirai. I dinosauri Eccovi finalmente! Non vedevo l'ora che quelle uova si rompessero. Ma chi siete? Siamo due lucertole terribili. Due dinosauri. Non sembrate così terribili. Che tipo di dinosauri siete? Triceratopi! E allora benvenuti al mondo, piccoli triceratopi! Fine